E' finita gli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale aggravato, la donna che sabato pomeriggio guidava l'auto che ha travolto Xemalve Smiley, un ragazzo di 16 anni di nazionalità albanese, sul ciglio della variante esterna di Ischia. Il veicolo avrebbe invaso la corsia opposta in prossimità di una curva, investendo il ragazzo che proseguiva a piedi lungo la strada a scorrimento veloce, già teatro di una serie di incidenti mortali negli ultimi 15 anni. La donna risultava negativa ai test alcolemici e tossicologici, ma era stata coinvolta in un altro incidente stradale mortale nel 2012, sempre a Ischia. Secondo quanto riferito dalla polizia, lei era stata sospesa la patente per un anno. Intanto, il sostituto procuratore di turno ha disposto sia il sequestro della vettura che dello smartphone della conducente dell'auto, in attesa dell'esito dell'autopsia già disposta dal secondo policlinico di Napoli. Nella ricostruzione della dinamica si stabiliranno le cause della perdita del controllo della vettura, risultato fatale per il ragazzo che era a Ischia in visita alla sorella, residente sull'isola. Torna così attuale il tema della sicurezza stradale a Ischia, dove lo scorso maggio, nel tratto di strada tra Casamiccio e Ischia, aveva perso la vita un altro giovane, travolto da un ato mentre era alla guida del suo scooter. Nell'occasione un 37enne di Ischia era stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Sui social, insieme al cordoglio per la scomparsa del ragazzo, si leggono gli appelli dei cittadini affinché il tema della sicurezza stradale diventi finalmente prioritario per le sei amministrazioni dell'isola di Ischia.